oggi esperienza particolare andremo a raccogliere del miele calcolate che io sono il classico tipo che scappa dalle api devo affrontare questa mia paura ci sono le arnie con il nostro nome questa è la mia arnia ha paura a no nessuno io no di certo non ho paura tu ormai sei collaudato questa qua sono delle piccole larve che le uova che la peregina ha deposto ecco qua comunque sono molto protetto quindi in teoria non dovrebbero farmi niente ho un po d'ansietta raga vi giuro io di solito con un'ape scappo quindi qua ce ne saranno quante un migliaio che ansia grazie davvero ho affrontato una delle mie più grandi paure c'è la regina è stata attratta la regina io ho visto il dorso